Giuseppe Conte ha fatto uno show buono per i social, stava parlando al suo pubblico che passa attraverso altri mezzi, non era certo un intervento orientato a un approccio costruttivo per l'aula, per riuscire a parlare nel merito delle questioni. Questo dispiace perché è un'occasione persa, il salario minimo è un tema molto serio, tutti vogliono aumentare i salari dei lavoratori più poveri, tutti abbiamo questo obiettivo e ci mancherebbe altro, ci dividiamo sul come farlo. Forza Italia ripete ossessivamente che il salario minimo a 9 Euro rischia paradossalmente di abbassare gli stipendi alla stragrande maggioranza dei lavoratori, perché? Perché oggi quanti sono i contratti firmati a Confindustria che prevedono un salario sotto i 9 Euro? Zero, neanche uno. La contrattazione collettiva in questo Paese funziona e copre l'85% dei lavoratori. Allora, il salario minimo se viene fatto in maniera direttiva, viene fissato una soglia, rischia che tante piccole e medie imprese avranno l'incentivo di uscire dalla contrattazione collettiva per dare il salario minimo. La sinistra è contenta perché ne fa solo un tema ideologico, ma attenzione perché l'operazione è riuscita ma il paziente sarà morto. Allora noi invece cosa diciamo? Invece che il salario minimo per alzare gli stipendi di questi lavoratori ricomprendiamoli tutti all'interno dei contratti collettivi di lavoro. Questa è la vera soluzione che non solo aumenta lo stipendio ma riesce anche a garantire più tutele, il welfare, perché all'interno di una contrattazione collettiva ci sta anche quello. Non c'è solo la paga oraria, ci sono anche tanti diritti frutto di una contrattazione collettiva di anni e quindi questa è la via maestra per Forza Italia e anche nella maggioranza tanti loro la pensano così. Bisogna spiegare agli italiani, spiegando si comprende perfettamente.